ragazzi se vi fa piacere iscrizione al canale gratis un click gratis e attiviamo la campanellina allora mi dispiace ma purtroppo lo devo fare non sono non sono da solo in questa situazione e quindi lo devo fare anche per proteggere per proteggere chi sta dando tanto ai tifosi dell'inter ovviamente no a livello di a livello comunicativo a parte le conoscenze ognuno di noi possa avere però devo dire una cosa quindi state attenti a quello vi sto per dire perché è molto importante su twitter c'è c'è uno che si spaccia per advisor te lo dico anche perché secondo me si spaccia per advisor perché tra l'altro poi c'è c'è uno ci fa i video e le live storiche sopra a questo profilo twitter lo devo fare per proteggere per proteggere il canale e i ragazzi non lo faccio per dirsi perché chi vuoi dissare ho bisogno di dissare chi vuoi dissare non c'è nulla da dissare qui qui c'è da dire la verità ai tifosi nell'inter praticamente questo profilo twitter che ha fatto un primo tweet il 2 di novembre poi dopo ci ha parlato un ragazzo che conosco io sembrava un profilo serio perché hanno parlato di svariate cose però oggi ha fatto dei tweet dove praticamente lui fa capire lascia intendere quasi che da advisor si siederà al tavolo delle trattative tra inter e pif qui è crollato tutto il castello di sabbia anche perché nel nostro gruppo c'è chi conosce advisor ma anche tra di voi ci sarà ci sarà qualcuno che conoscerà il modus operandi degli advisor un advisor che si siede alla trattativa pif inter non lo va certo a sperperare su twitter quindi vengono fatte delle live vengono fatti dei video si sono incontrati è fatta a gennaio tutte cazzate tutte cazzate perché un advisor non direbbe mai quello sta dicendo questo profilo su twitter mai non lo direbbe mai quindi noi siccome poi dopo cosa succede vengono strumentalizzate queste cose per attaccare anche gli esonerati noi ci dissociamo da queste cose totalmente vi consiglio vivamente di non dare retta a quello che che stanno riportando eh ora dopo ora quello che dice questo profilo twitter perché da twitter si è trasferita su youtube sta facendo la cronistoria di quello che sta dicendo questo profilo twitter ma un advisor che ripeto fa capire si siede al tavolo delle trattative secondo voi va a dire su twitter guarda mi siederò al tavolo delle trattative tra pif e zang noi ci dissociamo poi ognuno sul suo canale youtube fa cosa vuole questo non è dissing questo vuol dire essere corretti verso gli utenti non solo verso gli utenti le chiesione dei dati verso tutti i tifosi dell'inter che magari sperano in cose non esistano perché la trattativa c'è la trattativa per come la vediamo noi è conclusa siamo già molto più avanti società veicolo questi non lo sanno che qualora ci fosse da creare una società veicolo passerebbero altri sei mesi sono tutte cazzate quelle stanno scrivendo è un advisor che si siede a quei tavoli secondo voi va su twitter a dispensare perle mi siederò al tavolo pif pif su ling sarà ufficiale diciotto sono tutte cazzate diffidate da quel profilo lì ripeto ognuno fa quello gli pare sul canale youtube da twitter la stanno trasferendo su youtube non vi azzardate a nominare noi gli esonerati minimamente su quello che sta accadendo perché noi ci dissociamo totalmente vedi perché poi uno si arrabbia perché indirettamente viene sporcato il lavoro di persone sono fatte un culosi che sono state minacciate e che tolgono tempo alla famiglia per portare avanti sempre per passione a costo zero sia discorso societario sia discorso alcisti o sia il parlare dell'inter a 360 gradi quindi gli esonerati compresi i ragazzi soprattutto del team ci dissociamo totalmente tutto quello che sta che stanno dicendo secondo lui secondo loro c'è un advisor su twitter che ora dopo ora gli dice guarda sarò al tavolo con pif sarò di qui sarò di là non ci non ci stiamo noi eh noi non ci stiamo non ci stiamo noi non c'entriamo nulla anche perché poi c'è anche chi non aspetta altro di sentire queste cazzate per strumentarizzarle ok rimodellarle e tirarle fuori magari anche contro di noi non abbiamo detto quindi noi ci dissociamo totalmente ciao inter cosa era pazzi cosa è ammatti